Eccoci qui ragazzi, siamo qui in un nuovo video qui sul MotoGP Italian Championship Siamo qui quest'oggi per analizzare il trailer appena uscito di MotoGP 19 Innanzitutto vi mostriamo subito il trailer e poi lo andiamo a discutere un po' insieme Le reti neurali artificiali sono modelli computazionali composti di Neuroni sintetici ispirati dalla semplificazione di una rete neurale biologica Come abbiamo visto bene dal trailer le cose diciamo un po' che ci piacciono di più Innanzitutto per noi che siamo comunque una community online Dobbiamo partire dal fatto che c'è un bel rinnovamento dal punto di vista del multiplayer Perché sono arrivati finalmente i server dedicati e la race direction mode Come si può leggere dal sito infatti con i server dedicati quest'anno sarà tutta un'altra storia Preparti un'esperienza bassa latenza, le tue gare contro i giocatori da tutto il mondo saranno ora più giuste e affidabili che mai Zero lag, zero scuse e oltre a questo il nuovo race director mode ti darà la facoltà di scegliere ogni minimo dettaglio Delle tue gare online il tuo gioco e le tue regole Quindi come si può leggere appunto finalmente sono arrivati i server dedicati Quindi non ci saranno più quei lag fastidiosi che abbiamo avuto modo di vedere fino ad ora in tutti i giochi di MotoGP In tutto l'online, in tutti gli online di MotoGP E finalmente ci saranno questi server dedicati e soprattutto magari con questi server dedicati Si potranno avere delle lobby con un maggior numero di persone Almeno ampliarle, non dico a 20 persone ma magari a 16 persone sarebbe già una cosa ottima Invece per quanto riguarda race director mode non abbia capito benissimo Si potranno scegliere le regole, cioè magari dare le penalità oppure no Ma sarebbe una cosa bella anche magari avere le moto tutte uguali In modo che per chi facesse un campionato Cioè scegliere le moto, ogni pilota sceglie la sua moto Senza guardare troppo alla prestazione sarebbe una cosa abbastanza figa da fare Un'altra feature abbastanza bella è l'intelligenza artificiale E diventa neurale Sinceramente noi non sappiamo cosa voglia dire questa intelligenza artificiale neurale Però da quello che si vede nel trailer appunto Ci sembra che con l'intelligenza artificiale neurale come c'è scritto qui Insomma vada come te, si adatti alla tua velocità e al tuo stile di guida Però bisognerà anche vedere sinceramente quanto andrà forte oppure no Questo sarà tutto da vedere anche nei prossimi gameplay che magari rilasceranno loro E poi quando avremo il gioco alla mano sicuramente Successivamente nel trailer non vediamo naturalmente le livree che sono ancora quelle 2018 Ma vediamo che è arrivata l'aggiunta della moto E Quindi è stata aggiunta la moto E E quindi avremo Red Bull Rookies Cup, Moto 3, Moto 2, Moto GP e Moto E Quindi una giunta abbastanza interessante E invece un'altra giunta molto molto interessante Sono gli eventi storici che erano stati tolti nel 2018 Sono stati tolti e quest'anno ritornano Ritornano come infatti c'è scritto qui Historical Challenge Vivere la competizione più autentica della Moto GP sarà incredibile Ma avere la possibilità di rivivere i momenti più iconici del passato sarà un'esperienza d'unità Careggia nei panni di alcuni dei piloti del passato più famosi Nei loro momenti che più hanno fatto della storia Comunque sarà una bella aggiunta Vediamo qui appunto le immagini del Seach Si vede infatti c'è scritto nel trailer Il passato è pieno di momenti indimenticabili Infatti fanno rivedere delle immagini di Valentino, di Simoncelli in battaglia Valentino con la Honda Momenti storici della Moto GP Le più grandi rivalità dei piloti storici Le più grandi rivalità della storia della Moto GP Quindi sarà una feature anche questa molto molto interessante Vedremo appunto come verrà implementata all'interno del gioco Un'ultima aggiunta, un'ultima feature L'editor grafico Sceglie il modello di casco che preferisce e crea il design che più rispecchia la tua personalità Grazie ai nuovi potenti editor grafici avrai la piena libertà in termini di personalizzazione Infine, possibilità di forme, di colori, forme, livelli e brusce Potrai personalizzare non soltanto i caschi ma anche le lower back patches E i race number, quindi i numeri di gara, i caschi e anche il soprannome Sarà una cosa abbastanza figa questa Bisognerà naturalmente vedere tutto Perché in questo momento il gioco non è in pre-order Ma comunque se noi proviamo ad andare a cliccare Pre-ordina Il gioco è disponibile solo in Germania E il gioco soprattutto verrà rilasciato il 6 6 2019 Quindi il 6 giugno 2019 Un giorno prima rispetto all'anno scorso Quindi le aspettative sono tante Speriamo veramente in un bel gioco Detto questo noi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video